Tutto nasce e tutto finisce nella leadership, perché la leadership è relazione. Comunicare bene serve proprio a costruire relazioni belle, divertenti e che durino nel tempo. Ormai è noto a tutti, le persone fanno affari con chi gli sta simpatico. A parità di competenze viene scelta la persona che ci è simpatica, che ci sa ascoltare, che parla la nostra stessa lingua, che ha un qualcosa in comune con noi. Al corso di Privacy Lab per DPO il mio obiettivo sarà proprio quello di trasferirti quei principi universalmente validi che saprai poi adattare alle tue esigenze specifiche, personalizzandoli con i tuoi contenuti e con il tuo modo di essere. Lavoreranno insieme su tutto quello che ti permette di migliorare la tua comunicazione interpersonale e la tua capacità di mediazione in azienda. Ti aspetto lunedì 19 novembre 2018 al Simpo di Bologna. Ci divertiremo!